Buon pomeriggio a tutti, vi facciamo lavorare anche di sabato, ma come avete visto anche noi lavoriamo di sabato, non ci fermiamo mai. Abbiamo terminato il Consiglio dei Ministri fissato per quest'oggi. All'ordine del giorno c'erano due punti, uno è il decreto fiscale, la rilettura del decreto fiscale e il secondo punto l'esame della lettera che ci è arrivato dai commissari europei e alla quale dovremo rispondere entro lunedì alle ore 12. Per quanto riguarda il primo punto, l'avevo già preannunciato, sapete che mi ero riservato personalmente una rilettura dell'articolato per verificare quelle perplessità, quei dubbi di natura tecnica che si erano posti e avevo rifissato questo Consiglio dei Ministri che nella pienezza delle sue funzioni, se del caso poteva riservarsi anche interventi più sostanziosi nell'ipotesi in cui si fossero prefigurati dubbi anche di natura politica. Abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stessura definitiva che quindi risulterà deliberato sia nel Consiglio dei Ministri nella riunione pregressa e sia nella riunione di oggi, che era a due date, come è più corretto fare. Abbiamo raggiunto un pieno accordo, abbiamo anche discusso, ma non perché ci fossero chissà quali perplessità, ma perché proprio dal punto di vista tecnico la formulazione risultava abbastanza complicata in qualche passaggio, sta di fatto che viene ribadita quella che erano le coordinate originarie.